Oggi siamo ritornati Oggi abbiamo appena iniziato con le mie collezioni Cominciamo subito con la mia collezione di scalender Qui davanti abbiamo i miei due scalender Uno acqua e uno di tipo erba o vita Come volete intendere voi Che fanno parte dello scalender trap team Qui davanti abbiamo Bowser trasformato E la sua navicella Che fanno parte dello scalender di Super Challenger Che è uno scalender a posto di combattimento O è uno scalender in cui tu devi correre Però devi sempre combattere Alla fine Poi qui passiamo con la mia collezione di fumetti All'inizio abbiamo Martin Hell Che è un fumetto che non ho letto molto con piacere Perché non è proprio nei miei stili Perché non leggo fumetti che trattano tanto mostri A parte i fumetti che vedrete dopo Quindi io vi consiglio di leggerlo Se siete amanti dei mostri Qui abbiamo Martine Hell Che è sempre lo stesso Pensavo di essere una pecora Questo qui non è un fumetto Ma un libro molto divertente Ironico Che vi consiglio di leggere Comunque se ve lo faccio vedere È di Marcello Argento Poi come ho fatto vedere qui Qui c'è il fumetto Che è uno dei tanti fumetti di Land Dog Di questa serie Che tratta di mostri Uccisioni, omicidi e via dicendo Comunque questo è uno di Land Dog Ristampa La maledizione nera Poi qua abbiamo i contrabandieri Sempre un fumetto che c'entra Molto similiare a Gli altri due a Martinella di Land Dog Sempre di Land Dog La governante Questo è un altro di Land Dog Non ristampa originale La quinta stagione Sempre un altro di Land Dog La quinta stagione Queste qui due sono Tutte e due copie Perché a me mi piace avere le Molte copie dell'originale Comunque poi ho Di Land Dog la ristampa Doctor Tevron Di Land Dog sempre un altro ristampa I deletti della Matilde Della Mantide Mantide Scusate la mia pronuncia Poi abbiamo tutto Tex Sempre il fumetto che c'entrava Con quello di prima L'idolo di cristallo Invece l'altro era Aspettate che lo prendo No era solo i contrambandieri Comunque tutto a colori Poi qui abbiamo Cyber Six Che è insomma un fumetto Meno sviluppato degli altri Come disegno e veste grafica Però sempre bello E poi qui abbiamo Intropido Insomma Sempre come il fumetto di prima Non molto caratterizzato Però sempre bello da leggere E da vivere Da Da Vivere nel proprio Interiore Mentre si legge Poi abbiamo tutto Mark La Resa il giorno Dalle strage Poi abbiamo Ken Parker Sempre come il fumetto di prima Non è molto caratterizzato Però è molto Strutturato Diciamo come storia E poi abbiamo Il mio fumetto preferito Mega 2000 Che sarebbe Un po' tutto Un misto di Topolino Paperino Pippo Ora Se siete pronti Possiamo passare Ai film Come primo film Ultimo film Che ho comprato Abbiamo Scooby Do Aspettate se si mette a fuoco Mister Incorporated Le pazze corse di Scooby Molto bello In realtà è per DVD Ma ve lo potete vedere Anche sul computer Come tutti il DVD Però questo è molto Più consigliato Per il computer Poi Non poteva mancare Ovviamente Dragon Ball Z Che io sono Un grande fan di Dragon Ball Come potete vedere Anche dai miei video Che ho fatto Poi abbiamo Dragon Ball GT Neanche questo Poteva mancare Yu-Gi-Oh Che sono anche Un grande fan C'ho anche le carte Che ad una prossima collezione Se questo video raggiunge I 3-4 like Ve lo faccio vedere Yu-Gi-Oh I retegni inserti Volume 2 Credo di non avere Il volume 1 Poi c'ho I Gormiti Che me li vedevo Da piccolo E li adoravo Veramente Poi Qui c'ho Un film Più che film È Un audio libro Topolino Il giro del mondo Viene in 80 giorni Scupire il mondo Scupire la mangiare Di imparare Poi qua abbiamo La casa di Topolino La storia A sorpresa di Topolino Sì Era anche Molto partito Di Topolino Da piccolo Poi questo qui Che è uno dei Mei film preferiti Adventure Fun Sembri Topolino Pippo e Peperino Poi 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 abbiamo Looney Tunes Con Duffy Duck Qua abbiamo Cosa Non mi ricordo Come si chiamava E qui abbiamo Titti Se me lo ricorderò Poi ve lo dico Poi abbiamo Magica Inglese Magico Audio libro Di Topolino 29 persone Poi abbiamo Poi abbiamo Magica Inglese Magico Cioè un primo volume Di Topolino Poi qua abbiamo Un altro fumetto Che era in mezzo Ai Ai Cosa Ai film Topolino Poi qua abbiamo Un altro Diablo Diablo Link Che non ho messo A mezzo Gli attipometti Perché È in una parte I Cadaveri Parlano E poi Infine Abbiamo I Tre Moschettieri Un libro Bellissimo Di Geronimo Stulto Io sto studiando E Ringrazio che questo video S'era finito Così me ne posso ritornare Dove ero prima Comunque amici Spero che questo video Dopo la pausa Vi sia piaciuto Diciamo Se lo rivedete In un altro episodio Della mia Collezione Dovete lasciare Il minimo Tre O quattro Like Se me lascio Delle tre È lo stesso Comunque Lo riporterò Appena c'avevo Disponibilità Comunque Ve lo ripeto Sempre Mi trovate come Rizzo7836 Invece Mi trovate come Telegram EnzoGamer897 Bar EnzoRizzo9 Facebook Mi trovate Come dico Sempre In ogni Mio santo Video EnzoRizzo Con due Profili Uno In bianco nero Uno a colori Uno Attivo Che sarebbe Quello In bianco nero E uno Non attivo Che sarebbe Quello a colori Io ho detto Questo Amici Vi saluto E noi ci vediamo A un prossimo Video Ah Comunque Piccola Parentesi Questo qui È Silvestro Lo Sono ricordato Ora I only Called you And it's Half Time But the only Time that I'll be Back So I only Love it When you Touch me Not feel me When I'm Fucked up That's a kill me Back